Venerdì della quarta settimana di avvento, rito antico, dall'anno liturgico di Don Prosper Guéranger. Lettura del profeta Esaia. Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome. Mostri il Signore la sua gloria e voi fateci vedere la vostra gioia. Ma essi saranno confritti giunge un rumore, un frastuono dalla città, un rumore dal tempio. È la voce del Signore che paga il contraccambio ai suoi nemici. Prima di provare i dolori ha partorito, prima che le venissero i dolori ha dato alla luce un maschio. Chi ha mai udito una cosa simile? Chi ha visto cose come queste? Nasce forse un paese in un giorno, un popolo è generato forse in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito i figli. Io che apro il grembro materno non farò partorire? Dice il Signore. Io che faccio generare chiuderei il seno? Dice il tuo Dio. Rallegratevi con Gerusalemme. Esultate per essa, quanti l'amate. Sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succherete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. succherete, deliziandovi all'abbondanza del suo seno, poiché così dice il Signore. Ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre con solo un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, ma si sdegnerà contro i suoi nemici, poiché ecco il Signore viene con il fuoco. I suoi carri sono come un turbine per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco, infatti, il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su ogni uomo. Molti saranno i colpiti dal Signore. La tua presenza, Gesù, darà la fecondità a lei che era sterile e la piccola Sion, parteorirà d'un tratto un popolo per cui la terra non sarà più abbastanza vasta. Ma la gloria di tale fecondità è tua, o verbo divino. Il salmista l'aveva annunciato. O Gerusalemme, o regina, aveva detto, ti nasceranno figli al posto dei tuoi padri. Tu li costituirai i principi su tutta la terra. Essi si ricorderanno del tuo nome nella successione dei tempi e dei popoli. E i popoli, che sapranno che sono usciti da te, ti lo deranno per sempre, nei secoli dei secoli. Ma per questo era necessario che scendesse il Signore stesso. Egli solo ha potuto rendere feconda una vergine. Egli solo potrà dalle pietre produrre dei figli di Abramo. Ancora un po' di tempo. Egli dice, per bocca di un profeta, io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terra ferma. Scuoterò tutte le nazioni e per bocca di un altro, poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome. Tra le genti e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome. È una oblazione pura. Presto dunque non vi sarà che un solo sacrificio, perché l'agnello di tale sacrificio nascerà tra poche ore. Ora il sacrificio è il legame dei popoli. Quando il sacrificio sarà unico, allora pure non vi sarà che un solo popolo. O Chiesa, che unirai tutti, affrettati a nascere. E poiché sei già nata per noi che siamo nati da te, l'agnello tuo sposo spanda su di te il fiume di pace annunciato dal profeta. Spanda su di te la gloria delle genti come un torrente che straripa. Dia un latte abbondante alle tue mammelle. E i popoli vengano attorno a questa madre comune che li stringerà sul cuore e li cullerà sulle ginocchia. O Cristo, sei tu che ispiri tale tenerezza alla madre nostra. Sei tu che ci consoli, che ci illumini mediante essa. Vieni a visitarla. Vieni a rinnovare in lei la vita della nuova nascita che stai per avere. Donale in questo anno, come sempre, la fermezza della fede, la grazia dei sacramenti, l'efficacia della preghiera, il dono dei miracoli, la successione gerarchica, la potenza del governo, la forza contro i principi del secolo, l'amore della croce, la vittoria contro Satana, la corona del martirio. Che essa sia bella come tua sposa, nell'anno nuovo che sta per cominciare, sia fedele al tuo amore e sempre più gloriosa nella grande opera che le hai affidato, perché di anno in anno si avvicina il giorno in cui verrai per l'ultima volta, non più in fasce, ma su un carro di fuoco, per sconfiggere quelli che non hanno amato la tua chiesa e che l'hanno disprezzata e portarla con te nel tuo regno eterno. Grazie a tutti.